Sheila, mi trovi puritana? Oh Dio mio, sì cara, ci hai ossessionato tutte con le tue virtù da quando sei qui. Ma davvero? Oh, sembri la dea della verginità. In realtà sono tutt'altro. Sono grotescamente sentimentale, mi innamoro spesso. Perciò lasciai il corpo di sanità. Quei poveretti che si lamentavano nelle ambulanze. E specialmente quelli dell'Africa. Andavo a trovarli nelle ore libere. E quando guarivano e tornavano in linea, volevano passare con me l'ultima sera di licenza. Piccole stanze d'albergo, una ghinea e la colazione. Ed erano più le volte che pagavo io. Ma potevo dir loro di no. Avevo perso mio marito a Tobruk. Ero sopraffatta dalla tenerezza per quei ragazzi che andavano a morire. Sono grotescamente sentimentale. Ma che cosa ti fai ai capigli?